Pronto Angelo? Il Michele? Angelo? Bravo, così, vieni Galli. Enzo? Senti, lo senti. Senti che stimolo. A me non mi ci dici. Ivan, con il Flemming. Leonardo Mugnaini. Lo togli per favore Claudio. Con il Mugnaini. Fuori, per conto mio. Vengo. un valerio angeli Gino Bartali, Stefano Baldissone Mario Beccia, Fabio Tommasi, Taccone, Mauro Magamarsino e Chichi con Angelo Bonocelli si arriva al traguardo metti dietro anche te Michele Pardini Ancora, ancora non è fatto si è bloccato sul paletto va bene ragazzi al prossimo, al prossimo dai cancello tutto ragazzi vi ricordo che questo video va su YouTube fate attenzione a quello che dite ottimo Angelino Gris Armando, Indurain De Vlemic, Ivan Crespiani Ganna Il Mondo Cintoli Marcello Mugnaini tira Leonardo Mugnaini ero sul blu eh io assolutamente, perfetto no, no, no no, no no, passalù ottimo abbiamo Valerio Angeli Corrato Gino Bartali Stefano Baldissone ti aspetto bel tiro di potenza ma fuori troppo fuori vai Fabio si salvato dal paletto c'è un tifo mettiti dentro Angelo particolare e ancora no e ancora no e ancora no e ora prendiamo anche cancena 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 allora Emilio dai Emilio che lo prendi lo prendi dai per scena un po' per scena bravo bravo Emilio Angelo Galli eh va bene go go Wensalmando cancena cancena il vancrespiani Breve Leonardo Mugnaini Marcello Mugnaini Valerio Angeli Valerio Stattelli Torredo Montoneri Stefano Baldissone La stanchezza Luciano Ascolta Stava dire Ah no sono lì Mi partivo più indietro Ti tocca Taccone Mauro Lagomarsino Ottimo quasi ottimo Per il momento Andiamo Angelo Che sia una volta buona Ragazzi speriamo bene Aspettami 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 Aspetta un attimo Fammi sentire la branca Vai Vai Michele Eeeh Campione del trofeo Regione Liguria Campione italiano Appunti Campione italiano su gara unica Michele Pardini E' il tiro di Emilio E' il tiro di Emilio Vieni dai Ragazzi E' grande anche Angelo Galli